In Val D'Arno continuiamo il nostro obiettivo a guidare l'innovazione e la sostenibilità nel settore di mobilità e nella stessa locazione gestiamo l'industrializzazione di tutti gli sistemi elettrici sviluppati da ABB globalmente. Il negozio dell'elettrico veicolo è iniziato a ABB nel 2010 con l'acquisizione di una start-up. Il nostro obiettivo di valutazione è creare una soluzione completa per avere in casa tutte le skill necessarie per aiutare più performanti e più quali caratteristiche. Nelle nostre idee lead il pace dell'evoluzione per avere un futuro migliore e migliore per tutti noi e la prossima generazione. A presto del processo di assemblamento testiamo e verificiamo ogni unità produttiva. ogni caratteristica è completamente testata per garantire la funzione completa e la sicurezza della sicurezza. All'inizio facciamo una sessione di caratteristica completa per verificare che le funzioni di caratteristica sono perfettamente servizionali. Grazie a tutti! Grazie a tutti.